Nelle sedi di Chiaia San Ferdinando e San Giovanni a Teduccio, in questi giorni è possibile richiedere le nuove carte di identità elettroniche, che secondo quanto disposto da un decreto interministeriale saranno consegnate direttamente a domicilio entro sei giorni lavorativi. Entro il mese di novembre il servizio sarà disponibile in tutte le municipalità, cui bisognerà rivolgersi anche per le sostituzioni in caso di furto, smarrimento e deterioramento. Tra i grandi comuni italiani Napoli è in primo piano in questo progetto, che si adegua agli standard internazionali di sicurezza e da quelli anticlonazione ed anticontraffazione in materia di documenti elettronici. La nuova carta 3.0 è in policarbonato, ha le stesse dimensioni di una carta di credito, è corredata da una serie di elementi di sicurezza come hologrammi, sfondi e microscritture ed è integrata con un microprocessore a radiofrequenza per la memorizzazione delle informazioni, dagli elementi biometrici obbligatori primari come la fotografia, a secondari come l'impronta digitale, fino ad informazioni volontarie come il consenso della donazione degli organi e le modalità di contatto. Inoltre sono già predisposte per l'autenticazione in rete da parte del cittadino, per consentire la fruizione dei servizi delle pubbliche amministrazioni e l'acquisizione dell'identità digitale per usufruire di altri servizi in Italia e in Europa.